Un successo netto che va ben oltre le più rosee aspettative della vigilia. Ivan Costantini con quasi il 62% delle preferenze e oltre 8.000 voti vince al primo turno sbaragliando gli avversari e si impossessa nuovamente delle chiavi della città di Giulianova per continuare a governare per i prossimi 5 anni. Sapevamo di avere la vittoria in mano, quello l'abbiamo sempre detto anche in campagna elettorale, però arrivare a queste percentuali fa capire quanto i cittadini giuliesi, a prescindere da un'appartenenza politica, hanno voluto dare fiducia in questa amministrazione comunale. In 48 ore hanno deciso di far continuare a governare questa città. Sì, è stato bellissimo, io ho postato una foto mentre chiudevo la porta del mio ufficio e i cittadini in meno di 48 ore hanno deciso che dovevamo rientrare subito ad amministrare, questo ci rende orgogliosi del lavoro fatto, abbiamo lo stesso entusiasmo che avevamo nel 2019 con l'unica differenza che c'è tanta esperienza in più. La sua sarà una maggioranza forte, composta da 11 consiglieri, oltre al sindaco chiaramente, con molte conferme. La lista Giulia Nova Turismo, nelle G3 con Paolo Giorgini, Nausica Cameli e Marco Di Carlo, due ciascuna Fratelli d'Italia con Matteo Francioni e Maria Luigia Orfanelli, obiettivo Giulia Nuova con Roberto Mastrilli e Federico Montebello, e la lista Ivan Costantini Sindaco con Marco Cartone e Paolo Bonaduce. Un consigliere attesta la lista verso con Riccardo Cichella e Forza Italia con Lidia Albani. Sulla base di questi risultati nascerà la nuova giunta, tra qualche conferma e inevitabili novità. Penso che sia doveroso, nel senso che fondamentalmente hanno deciso i cittadini giuliesi e quindi dobbiamo rispettare il voto popolare e in base al voto popolare costruiremo la migliore squadra possibile. L'opposizione avrà quattro consiglieri, il Campolargo ne elegge tre, con la candidata a sindaco Alberta Ortolani ci saranno due consiglieri del PD che torna dunque a sedere sui banchi dell'assise civica con Oreste Marchioni e Ettore Matone e uno con il cittadino governante che conferma Franco Arboretti. Il quarto consigliere è Daniele Di Massimo Antonio, candidato sindaco della sinistra. Non ce l'ha fatta invece il civico Romolo Lanciotti. Grazie.